Edizioni speciali dedicate alle migliori vie crucis del Vulture. Rioniro in Vulture, Palazzo San Gervasio, Filiano e Rapolla. Siamo con Rosa Preziuso Ferraiolo, direttore artistico della Via Crucis di Rionero. Perché le sacre rappresentazioni attirano così tanto? Secondo me intanto è perché sono legata alla tradizione, alla tradizione popolare che è sempre viva. Ultimamente secondo me perché c'è questa ricerca, questa tensione verso la parte spirituale, verso una religiosità che negli ultimi anni è stata molto penalizzata. E poi appunto la tradizione è quella che conta, è una cosa che risale a molti anni fa e si perpetua perché è giusto che sia così. Ogni processione ha i suoi punti di forza. Sì, è vero. Bisogna scegliere con oculatezza i personaggi principali che poi sono la Madonna, Gesù, ma anche nella nostra tradizione la Zingara famosa, che poi Zingara non è, è tutt'altro, è il male. E puntare su questi perché è l'unico momento di drammatizzazione della processione. Poi il resto comunque i punti di forza sono anche la grazia, l'armonia nella resa totale, complessiva, dei personaggi individuati in maniera puntuale, nell'abbigliamento, in tutti i dettagli che sono molto importanti. Un duro lavoro preliminare. Cosa spinge a fare tutto questo? Devozione, grande impegno e cos'altro? Autolesionismo. Sicuramente devozione, sicuramente la volontà di rendersi utili per la collettività, fare qualcosa che sia cara alla collettività è comunque un grosso sacrificio. La società di oggi ha bisogno di tanta fede. Sì, questo è vero. Io lo noto, ogni anno che passa l'affluenza alla processione è sempre più alta, c'è sempre più commozione, sempre più partecipazione. Quindi c'è questo coinvolgimento emotivo che è un chiaro segno di aspirazione a qualcosa di spirituale, di alto, di diverso. Abbiamo una società di consumi in cui tutti i valori, non solo dei consumi, è una società che ha distrutto tutti i valori tradizionali, dalla solidarietà al rispetto dell'altro, eccetera. Quindi forse questo è proprio un tentativo, una maniera, secondo me, sottilmente, come dire, una maniera per non affrontare le cose di colpo, di persone, in modo plateale, ma una ricerca recondita, nascosta. La Via Crucis di Rionero chiude il ciclo delle sacre rappresentazioni nell'immediata vigilia di Pasqua. Quali le principali difficoltà che avete incontrato quest'anno e cosa si potrebbe migliorare? Io credo che il livello della nostra processione abbia raggiunto delle punte veramente notevoli. Il gruppo di lavoro è molto compatto, lavoriamo con entusiasmo, la confraternità non ci fa mancare i mezzi, Savino, il priore è sempre disponibilissimo. Mi vanto, lasciatemelo dire, del fatto che ritengo che la nostra sia la più completa, proprio perché segue anche un filologico. La nostra processione, oltre ad essere processione, quindi atto di fede, colestato, eccetera, ha anche una sfilata storica. Parliamo della vita di Gesù, dalla Domenica delle Palme alla Resurrezione. Il quadro degli angeli della Resurrezione lo abbiamo inserito due anni fa perché il processo fosse completo. Cioè dopo la morte di Gesù, Cristo alla croce, con la croce che serve al Golgotha, queste fanciulle vestite di bianco, con il cero, alfa e omega, il principio e la fine, e il grano germogliato, che è proprio la rinascita. Quindi credo che sia un discorso organico, ben fatto. Facciamo di passare in modestia. L'orgoglio di cui maggiormente essere fieri? Beh, realizzare tutto questo. Non si può far sfilare 220 persone, organizzare il tutto, rivisitare ogni anno tutti i costumi, organizzare tutto quanto con un gruppo abbastanza ristretto di collaboratori, tutti molto giovani, impegnati anche nel lavoro, portare a compimento tutto questo non è cosa da poco. In ultimo, sottolineare meriti e ringraziamenti. Beh, ringraziamenti a tutto lo staff che collabora con entusiasmo e d'affetto nei miei confronti, a Savino Ceccia, il priore della confraternita, che è sempre straordinariamente disponibile. In merito, lo vedranno le persone, sarà il consenso che si riceve durante la sfilata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.